allora versiamo tutta la farina nel boccale aggiungiamo l'acqua e il pizzico di sale azioniamo il bimbi un minuto spiga aggiungete un ulteriore cucchiaio di farina non so perché ma mi sta facendo rumore il bimbi sono preoccupata sicuramente c'è qualcosa che non va già un bel po di anni che ce l'ho quindi non so vediamo un po poi avviate 5 secondi velocità 5 questo è il risultato come potete vedere è bella piccolina come piace a me e adesso possiamo fare la nostra pastina ciao iscriviti al canale iscriviti al canale